Come ogni mercoledì è approdato su Disney Plus un nuovo episodio della miniserie Moon Knight, facente parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dietro la macchina da presa tornano Justin Benson e Aaron Morad che già avevano diretto il secondo episodio. Bisogna dire che Moon Knight stia facendo discutere perché tra alti e bassi una fetta di pubblico la sta convincendo mentre un'altra proprio no. Se ricordate il primo episodio a me riuscì a folgorare, mi piacque tantissimo e subito restai intrattenuto dalle vicende di questo tizio vittima degli eventi che non riusciva a capire cosa accadesse quando le palpe presbattevano e un'altra personalità prendesse il sopravvento su di lui. Già dalla seconda puntata mi sono molto ridimensionato e questa folle gioia nel vedere gli eventi che scaturiscono nella serie si è trasformata in una sorta di delusione quando mi sono reso conto che anche certi aspetti molto interessanti come il rapporto misterioso e inquietante tra Steven Grant e questa figura che scoprivamo essere Mark Spector venisse repentinamente aggiustata creando questo incontro scontro fra i due che si poteva essere senz'altro sviluppato ma meglio e nel corso dei successivi episodi perché se uno si guarda la prima puntata e dice caspita quanti aspetti misteriosi da scoprire poi si guarda la seconda in cui basta un minimo dialogo e i due riescono ad entrare in contatto non c'è più il blackout che non ti fa ricordare cosa sia accaduto poi nella scorsa puntata tornava il blackout e anche lì non si capisce perché penso che uno nei commenti mi abbia già spoilerato il motivo per cui ci possa essere stato il blackout forse si parla di un'altra personalità che ancora dovrà venire fuori preferivo scoprirlo attraverso la serie ma da un lato lo auspico anche perché questa cosa altrimenti non l'avrebbero spiegata perché il blackout ogni tanto sì ogni tanto no specialmente dopo che si è dato il consenso all'altra personalità di mostrarsi e quindi c'è un rapporto favorevole sfavorevole tra i due vabbè comunque devo dire che questa quarta puntata dopo la prima sia la migliore io ammetto di aver perso un po quella curiosità che avevo inizialmente quando vidi il primo trailer di moon night ero proprio interessatissimo al progetto non lo conoscevo ma solo il design del personaggio mi ricordava un po' uno zorro bianco mi ricordava un po' batman mi piaceva che serpeggiasse questo clima anche un po' inquietante a tinte horror che poi non sempre abbiamo trovato e devo dire che già dal secondo episodio la mia attenzione verso il progetto è un po' diminuita l'ho sempre seguito con interesse ma non con quella voglia di scoprire cosa accadesse come magari provavo vedendo la prima puntata che ahimè secondo me parte benissimo e poi la serie va un po' impicchiata nel complesso questa quarta puntata mi ha un po' solleticato il gusto mi ha un po' solleticato il divertimento in quanto cerca di ricalcare quei film anni 90 stile la mummia con brandon fraser almeno a me ha ricordato molto quel film che amavo da piccolo e che da tanto tempo non non rivedo abbiamo i nostri due protagonisti steven e leila che si ritrovano in questa grotta in questa in questo sarcofago in questo posto così particolare inquietante per cercare la tomba di ammit solo che i due verranno disturbati da questa creatura senz'altro con una cgi migliore rispetto a insomma una computer grafica un po' scadente degli episodi precedenti mi è sembrato che ci sia stato anche qualche effetto artigianale non per forza visivo digitale allo stesso tempo ci si ritrova in questo luogo così oscuro e tetro tra stregoni tra persone mummificate ed ecco che si scopre che siano stati fatti dei sacrifici umani fino a poco tempo prima ma di chi sarà quel sangue ci sono dei brandelli di carne non mi aspettavo nemmeno che si andasse incontro a scene non dico così troppo esplicite ma nemmeno così tanto edulcorate devo dire che la parte della puntata all'interno di questo luogo oscuro mi abbia anche divertito con i nostri due che si separano perché ad un certo punto è il nostro steven grant che non ascolta mark che continua a chiedergli dammi il permesso di entrare insomma lo sai poi è anche geloso mark spectro perché sa che ci potrebbe essere un feeling tra steven e leila e quindi essendo leila leila ora non ricordo come si pronuncia il nome perdonate e essendo questo posto così particolare labirintico i due si perdono dopo che il nostro steven getta giù un un tavolo che schiacci proprio questo mostro che si era palesato con la nostra ragazza che si era che si era nascosta ecco che ad un certo punto ci si ritrova di fronte alla tomba niente po po di meno che di alessandro infatti c'è alessandro magno infatti c'è il nostro steven che gli chiede che fai alessandro e lui risponde con molta decisione e senza la minima vergogna magno e si vede aveva fame detto ciò bisogna cercare di aprire questa tomba dentro si riesce a trovare quel che si cercava solo che allo stesso tempo con questo montaggio alternato ecco che la ragazza viene presa viene catturata da questa creatura che si nascondeva tra le rocce ed è molto bella quella scena lo ammetto lei che pian piano sta arrampicandosi su questa parete intanto fuoriesce una mano laterale che la sfiora lei si tira indietro cade ecco che però dall'oscurità dal buio fuoriesce questa creatura che la afferra la porta dietro con sé devo dire che è una scena minimamente a tinte horror che ho trovato riuscita meno male non ci sono stati fermo immagini senza senso e quindi la ragazza comincerà a colpire questa creatura che devo dire avesse anche un aspetto un design convincente fino a che ecco che spunta il nostro arro il nostro ita nook che rivela alla ragazza che forse il padre sia stato ucciso proprio da mark da suo marito e quindi cerca nuovamente di mettere i bastoni fra le ruote così che quando la nostra lei la incontra il nostro steven glielo domanda ma mio padre e quindi steven lascia il controllo a mark i due si parlano con mark che rivela di non averlo mai toccato il padre anzi di averlo voluto salvare ma che c'era un altro mercenario lì con loro che preso dalla follia uccise tutti fatto sta che ciò che mi ha colpito di questo episodio che lì per lì era anche carino avventuroso certo non da strapparsi i capelli ma nel complesso superiore senz'altro al terzo o al secondo cosa accade accade che il nostro mark viene colpito da un proiettile del nostro arro e quindi cade cade quando ormai era sicuro di aver trovato il luogo giusto dove trovare la tomba di ammitte bla 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 con kung fu sempre imprisionato dagli dèi cosa accade come in una sorta di shutter island il nostro mark si risveglia in un ospedale psichiatrico prima c'è questa bella trovata di mostrare lo schermo che si trasforma in quattro terzi in cui in maniera un po volutamente artificiosa e quasi come se ti volessero dare l'idea di star vedendo qualcosa di diverso con questa fotografia seppia ci si ritrova di fronte a questo indiana jones dei poveri in cui c'è steven grant che è l'indie della situazione e tu dici cosa sta succedendo poi ci rendiamo conto che quello fosse un film che stessero vedendo i malati di questo ospedale psichiatrico dove tutto è bianco quindi dall'oscurità ci si trasforma nella luce piena cioè si si trasla dall'oscurità alla luce bianca e quasi fredda no del luogo dove ci sono le anime di queste povere persone malate tra chi disegna chi è legato al letto e compagnia bella e ad un certo punto vediamo in uno stato catatonico il nostro mark che si risveglia che ha in mano un modellino di del nostro cavaliere della luna che ha con sé la videocassetta dove il protagonista di questo film si chiamasse proprio steven grant questo luogo ospedaliero a varie statue che potessero ricordare anche la mitologia di ciò che abbiamo visto fino a pochi minuti prima e quindi è come se la puntata ti volesse far pensare ti volesse far credere che fino ad ora lui sia sempre stato in un ospedale psichiatrico e che la sua mente abbia viaggiato creando mondi che in realtà non esistono ma che si sono creati nel nel pensiero contorto del protagonista rifacendosi all'oggettistica ciò che stesse vedendo all'interno dell'ospedale psichiatrico un espediente che è stato utilizzato in molti film un colpo di scena sempre affascinante accattivante e sorprendente se una sceneggiatura è ben scritta precedentemente senz'altro qua scopriremo che ci sia l'inghippo scopriremo che possa essere tutta un'allucinazione non del nostro mark spectro bensì che sia arro che attraverso dei sortilegi degli incantesimi stia provando a togliere dai giochi il nostro protagonista per trovare ammite e non avere una spina nel fianco però è interessante perché l'episodio termina proprio sul più bello quando il nostro mark ad un certo punto scappa via si rifugia in una stanza apre un sarcofago dove incontra steven grant quindi per la prima volta si incontrano fisicamente corpo a corpo si abbracciano quindi è come se fossero non più uno sdoppiamento della della solita persona uno sdoppiamento mentale ma proprio si incontrassero corpo umano con corpo umano ecco i due si abbracciano scappano insieme si ritrovano di fronte a questo ippopotamo parlante potrebbe essere non si sa però questo ippopotamo che parla ricordiamo che invece lei la era un'infermiera in questo ospedale in cui si risveglia steven e quindi è interessante vedere come poi la puntata termini facendoci pensare e adesso cosa succede perché da un lato sarebbe geniale che si scoprisse realmente che tutto ciò che avessimo visto fino ad adesso fosse nient'altro che un sogno di un'allucinazione ma secondo me non sarà così sarebbe un po assurdo specialmente in una serie in cui si vuol proprio raccontare l'apoteosi lo sviluppo la nascita di un nuovo supereroe cioè se veramente lui si fosse immaginato tutto quindi non esisterebbe il cavaliere della luna cioè come potrebbero portare avanti in futuro il personaggio sono tutte paturnie mie queste poi magari c'è una sceneggiatura sotto scritta molto bene io continuo a pensare che sia tutta un'allucinazione indotta dal nostro arru però devo dire che mi ha sorpreso se ultimamente la voglia di arrivare al mercoledì per vedere la puntata veniva meno perché dice ok è uscita vediamola però non sentivo la stessa necessità di visionarla come ai tempi di vanda vision o di altri prodotti mcu come loki e devo dire che dopo questo finale di vedere la quinta puntata ne ho leggermente più voglia certo ricordiamoci che in totale saranno sei siamo oltre la metà perché con questa quarta puntata abbiamo superato la metà e nel complesso non è una serie ottima parliamoci chiaro non è nemmeno una serie brutta perché sento critiche distruttive ho visto ben di peggio diciamo che è una serie ora come ora e poi bisogna valutarla nel complesso con i suoi alti e i suoi bassi che sa sorprendere sa deludere che sa divertire e sa inquietare ma sa anche far pensare perché ci sono delle cose il fermo immagine è una cosa il rapporto raffazzonato tra i due che poi ora viene più esplorato ma inizialmente c'è stato un cambio repentino impressionante ma ne ho parlato nel corso delle recensioni delle puntate passate quindi come al solito quando si parla di serialità mcu su disney plus si cerca di mettere troppa carne al fuoco e sono tutte cose interessanti sarebbero tutte cose interessanti se non ci fosse il problema che gli episodi poi sono sempre pochi cioè se fossero stati già otto e nella seconda puntata mi avessero mantenuto anche l'aspetto un po strano e così misterioso tra steven e mark avrei detto vedi poi i due si incontrano e abbiamo uno sviluppo ma almeno inizialmente si continua un percorso interessante invece no tutto è troppo allo stesso momento insieme vediamo adesso nel penultimo episodio cosa accadrà secondo me oscar isa che è un bravo attore e se la cava nei panni di steven grant di steven grant così come ita noncava sono tutti bravi tutto sommato però ora come ora è la serie mcu che mi sta convincendo di meno leggermente meglio questa quarta quindi fatemi sapere la vostra io vi attendo nella sezione commenti così potrete dirmi se a voi è piaciuta più che a me o meno rispetto a me vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana poi vi ricordo che ho partecipato anche ad una nuova live sul canale del mitico matioschi abbiamo parlato di x-men giorni di un futuro passato il link è qua sotto non perdetevi la puntata io vi abbraccio noi ci vediamo per un prossimo video e mi raccomando fatemi sapere ciao ciao